buongiorno io sono edoardo sto facendo sono qui alla scuola together dog con tor e letizia il nostro cane ha nove mesi e abbiamo fatto questo corso perché lui era un attimino più eccitato più movimentato più agitato e grazie a questo corso abbiamo riuscito siamo riusciti a capire le pause del cane riuscire a capire il guinzaglio quello che lui vuole dire a noi quello che noi dobbiamo dire a lui se siamo in sintonia se non siamo in sintonia e grazie ad alcuni esercizi che abbiamo fatto qui siamo riusciti anche a casa ad avere a trarre giovamento da tutto quello che abbiamo che abbiamo imparato e ci ritroviamo un cane che si sa rilassare ci si rilassa anche noi e diciamo che è un attimino più più tranquillo e si comporta meglio e grazie a stefano pesci e alla scuola together dog ciao a tutti oggi siamo al nostro ultimo giorno di corso e posso dire che portiamo a casa un grande bagaglio di conoscenza e grandi insegnamenti da mettere in atto questo corso mi ha insegnato a capirmi ea capire il mio cane e spero di di riuscire sempre a mettere in pratica questi insegnamenti perché sono stati molto utili siamo molto contenti di questa esperienza